È stata una partita molto dura, siamo partiti molto male, non lo so come mai, abbiamo faticato un po' ad adattarci a loro perché eravamo ancora un po' abituati all'Israele che erano tutta un'altra pala a mano, ma è anche per questo che facciamo queste partite per crescere e per migliorare, questo è stato una partita persa, però la squadra ha lottato fino alla fine, anche sotto i 5-6 gol, abbiamo recuperato più volte e poi è finito così, domani proviamo a fare meglio.